Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei ramponi di casa Petzl, nel particolare ho qua i modelli Irvis e Sarken. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dal modello Irvis, che è anche quello più economico e più leggero di casa Petzl, ovvero un rampone in acciaio a 10 punte, che ha un peso specifico di 790 grammi. È un rampone, come dicevo, a 10 punte, con le punte orizzontali, quindi diciamo un rampone pensato soprattutto per delle camminate su ghiacciaio, un rampone pensato per fare dei facili 4000, le classiche ascensioni dei 4000, non è sicuramente un rampone pensato per fare delle vie tecniche. È un rampone poi che può andare molto bene anche per lo scialpinismo. A livello di caratteristiche, come vi dicevo, abbiamo delle punte anteriori orizzontali che svolgono veramente un ottimo lavoro, anche utilizzate puntandole un po' nel ghiaccio, devo dire, lavorano molto molto bene. 10 punte, quindi comunque abbiamo una buona stabilità anche sul laterale quando andiamo a camminare sul ghiaccio. È un rampone poi che è abbastanza modulabile, nel senso che lo si può utilizzare sia come rampone universale, che come semiautomatico, che come automatico. Questo perché Pezzel vende tutti i pezzi per poterlo adattare a ogni tipo di scarpone, quindi in base al tipo di scarpone che avete potete anche scegliere il tipo d'attacco. Un'altra caratteristica che mi è piaciuta molto è il sistema che utilizza Pezzel per andare a regolare la lunghezza dei suoi ramponi. È praticamente una semplice leva da sollevare, far passare la barra di regolazione e è veramente molto semplice serrarli. Poi questa barra di regolazione ha uno scarto tra un buchino e l'altro di 2-3 mm, quindi veramente ha una regolazione molto molto precisa. Non solo perché poi abbiamo anche delle regolazioni sulla parte anteriore e posteriore degli agganci, quindi veramente con queste tre regolazioni potrete arrivare ad avere il giusto serraggio per i vostri ramponi al millimetro. Altro aspetto che mi è piaciuto di questi Irvis è il suo antizzoccolo. Ho utilizzato su neve anche bagnata, bella compatta, devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. Non ho mai avuto problemi di zoccolo che si è formato sotto nello scarpone, davvero devo dire un ottimo antizzoccolo. Considerato poi che se doveste romperlo o in generale comunque andare a usurarsi, potete benissimo comprare il pezzo a parte e andare a sostituirlo. E questa è una caratteristica di Pelser che mi è piaciuta molto, perché su tutti i ramponi praticamente si può sostituire a qualsiasi parte. Dall'antizzoccolo alla barra centrale per la regolazione, agli attacchi anteriori e posteriori. È veramente un sistema che mi è piaciuto tantissimo. Soprattutto poi la parte interessante è che noi, faccio un esempio, possiamo comprare questi Irvis quando siamo all'inizio di fare le nostre uscite alpinistiche, siamo alle prime armi e volendo poi, tenendo la parte posteriore, possiamo andare a comprare la parte anteriore di altri ramponi come i Sark and i Link senza nessun problema e andare a cambiarli in base all'attività che dobbiamo fare. Quindi veramente possiamo partire da un rampone molto semplice come questi Irvis e successivamente andare a comprare le varie parti e andare a comporci il rampone come più ci piace in base a quello che dobbiamo fare. Passiamo ora invece al modello Sark and che secondo me è veramente un rampone killer sul mercato perché ha delle funzioni veramente interessanti che adesso le vediamo insieme, iniziando dalle punte. Le punte, questo è un 12 punte e nella parte anteriore è un ibrido tra avere delle punte orizzontali e verticali. Praticamente la punta inizia che è orizzontale e va a finire che è verticale. Questo gli dà modo di essere praticamente un rampone tutto fare. Possiamo farci da delle classiche ascensioni sui 4000, possiamo iniziare a farci della roba tecnica come dei canali, come delle crest eccetera fino ad arrivare a fare anche delle cascate di ghiaccio. Naturalmente poi le punte sono fisse quindi non possiamo utilizzarlo come monopunta e le cascate di ghiaccio diciamo fino a un certo punto non devono essere estremamente tecniche perché in quel caso un monopunta o comunque uno scarpone come sempre i link di pezzi sono più consoni. Però questo qua ci dà modo di poter spaziare praticamente su tutto quello che è il mondo di ramponi in montagna. Una caratteristica però che mi ha fatto un attimo storcere il naso è diciamo il materiale che presentano queste punte nel senso che una volta che le abbiamo consumate non c'è tanto materiale da andare a limare per renderle nuovamente belle appuntite. Diciamo che una volta che avrete consumato le punte molto probabilmente sarà meglio andare a sostituire tutta la parte anteriore del rampone piuttosto che andare a limarle perché veramente c'è poco poco materiale. Però in generale vi assicuro che quando si cammina una classica camminata su ghiaccio lavora molto bene come se fosse un rampone con le punte orizzontali. Quando invece dobbiamo andare in battuta come magari su ghiaccio vivo come può essere in una situazione di canali oppure in una situazione di cascate di ghiaccio devo dire che fa veramente un ottimo lavoro. È veramente un ibrido molto interessante. Poi il resto delle punte sono in acciaio classiche classiche punte d'acciaio che troviamo anche su altri ramponi di pezzel qui non abbiamo il problema di andare a limarle perché il materiale ce n'è davvero molto interessante come rampone tutto fare. Un'altra caratteristica che troviamo come sugli IRVIS è quella di poter andare a modularne in base alle nostre esigenze. Possiamo decidere di andare a prendere la parte anteriore come attacco per un rampone universale quindi anche su diversi tipi di scarponi. Possiamo avere come nel mio caso un tipo d'attacco che va bene sia per sim automatico che per automatico. La parte posteriore fornita di serie però secondo me ha un piccolo difetto ovvero che non ha una rotellina sulla parte in plastica che va a serrare il rampone non ha una rotellina per andare a fare una regolazione millimetrica di questo punto. È un peccato perché davvero è proprio una virgola che gli manca. Detto ciò arriviamo alle conclusioni per questi ramponi di casa pezzel. Iniziamo dagli IRVIS vengono venduti online a un prezzo di 100 euro i Sarken invece vengono venduti a un prezzo di 150 euro. Vi consiglio gli IRVIS sì perché comunque secondo me sono degli ottimi ramponi va bene come i ramponi diciamo entry level hanno sicuramente un prezzo più alto rispetto alla concorrenza però vi permettono già di entrare nel mondo pezzel che come vedete poi acquistando magari questi ramponi IRVIS potrete poi andare a prendere la parte anteriore dei VASAC, dei Sarken, dei LINK senza nessun problema aggiungendo semplicemente qualche soldino in più. Quindi diciamo che se volete entrare nel mondo pezzel potete iniziare benissimo dagli IRVIS che successivamente poi vi permetteranno anche di cambiarli e andare a fare anche cose più tecniche. Se invece state cercando un rampone tutto fare ma davvero tutto tutto fare allora questi Sarken, questi Sarken sono veramente tanta roba 150 euro poi secondo me è un prezzo abbastanza congruo per quello che sono le caratteristiche va bene non hanno tanto materiale da poter limare eccetera però c'è anche da dire che se arrivate al punto che dovete limare le punte molto probabilmente sarà da cambiare proprio il rampone perché ci avrete fatto un sacco di ore. Quindi in generale sì io penso che siano degli ottimi ramponi mi piace tutta quella che è poi la filosofia pezzel di poter andare a intercambiare le varie parti dei ramponi soprattutto che se si dovesse rompere un pezzo potete benissimo acquistarlo a parte senza dover comprare un rampone nuovo e dover spendere altrettanti soldi. E detto ciò ragazzi una speranza sia stata un'esaurimento esastivo anche per questa recensione vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!